Andiamo al segno dello scorpione, luna bellissima, in quel settore del cielo che per voi ha a che fare con i viaggi, con gli spostamenti, ma anche con la conoscenza. Perché quel settore del cielo ha a che fare con il sagittario e il nono settore ha a che fare con gli studi superiori. E quindi la possibilità di ampliare quello che è il nostro bagaglio anche culturale come attraverso anche un viaggio, attraverso una nuova esperienza lavorativa, attraverso anche un corso di specializzazione, un corso da fare all'estero, magari come si chiama questi studi, queste vacanze studio, soprattutto per i più giovani. Ecco, quella è una luna ideale soprattutto per queste cose, ma devo dire che tutto il periodo tende in qualche modo a farvi ritrovare equilibrio ed entusiasmo grazie a questo mercurio che mette in evidenza le vostre doti.